Il mistero di Dio Il mistero di Dio Il frammento divino deposto sulla terra Di cui è immagine la manna Di cui è profezia la manna È una persona È Gesù Cristo nostro Signore Colui che è venuto dal cielo E dà la vita al mondo Abbiamo un problema con tutto questo Un problema molto serio Lo stesso problema che avevano i giudei I nostri padri, cioè noi Perché sapete che per un giudeo La storia è un unico grande evento Il memoriale con cui celebrano le grandi feste Gli eventi del passato Non è un semplice ricordo Ma un rivivere Un entrare insieme ai propri predecessori Ai propri antenati Nello stesso evento Attualizzato nel presente Per cui nel deserto attuale Anche loro hanno mangiato E mangiano la manna In un certo senso Ebbene loro hanno visto Hanno fatto questa esperienza Che un uomo che si chiama Mosè Ha dato loro il pane dal cielo Allora loro vogliono avere da Gesù Lo stesso segno Per dimostrare che Lui era il vero Messia Tradizione ebraica Il Messia Tra le altre cose Avrebbe dato di nuovo la manna Interessante sapere questo Per capire qual era l'attesa Del popolo di Israele Avrebbe dato di nuovo Un pane che viene dal cielo Così recitano i miraci I racconti ebraici In cui si trasmetteva E si trasmette ancora oggi la fede Dice sì ma questo pane Dice il Signore Vi ha saziato Vi ha salvato Perché quelli Che hanno mangiato quel pane Sono morti Allora vediamo Se quella era la profezia Del Messia Se non era ancora Il compimento Se quell'esodo Quell'esperienza L'esperienza della manna L'esperienza di poter mangiare Nel deserto Era una profezia Dei tempi messianici Quando definitivamente Il Messia avrebbe portato Il pane Il cibo L'alimento Che viene dal cielo Allora voi cosa volete da me Che io compia Un segno identico A quello che ha fatto Mosè Ma no Non è così Io vi do un altro segno Quella motivazione dei panni E dei pesci Non era sufficiente Perché loro avrebbero voluto Che Gesù compisse un segno identico Cioè dal nulla Dal cielo Far scendere La manna Gesù Mi dice No Mi state sbagliando C'è qualcosa molto di più Perché non è stato Mosè A darvi il pane dal cielo Ma è stato Dio stesso Che vi ha dato il pane dal cielo E Dio L'autore Di quel segno Attraverso Mosè evidentemente E adesso Dio stesso Ha già fatto questo segno Ed è in mezzo a voi E lo ha compiuto Perché sono io Colui che vi parla Io Io stesso sono Il Messia Io sono il cibo Che viene dal cielo Io Gesù Joshua Dio Salva Il pirato di Joshua Io vi do la salvezza Io vi do la vita La vita che non muore La vita che va oltre la morte Sì abbiamo tutti un problema Tutti noi siamo imprigionati Nei nostre categorie religiose Nei nostri aspettative Esattamente come il popolo di Israele Noi esigiamo dei segni Da Gesù Da Dio Che corrispondano All'idea che noi abbiamo di Dio All'idea che noi abbiamo della religione Del rapporto con Lui Il solito Dare e avere In questo deserto Noi vogliamo una mamma Vogliamo Che in questa situazione In questo momento Lui ci sfadi Secondo i nostri schemi Che quella persona Che abbiamo di fronte Diventi ciò che noi Desideriamo Che diventi Che cambi il carattere Del marito Che i figli si mettono a studiare Che non abbia tanti dolori Ognuno può mettere Le sue esigenze Dio provvede con una mamma Che ci obbliga A uscire dall'accampamento A uscire dalla tenda Per andare A prenderla Per accoglierla Vedete Chi accoglie me Chi si avvicina a me Chi viene a me Come il popolo Andava A prendere la manna Che come uno strato Di rugiada Si depositava All'alba Sua terra Ma non è Un cibo Un cibo che si corrompe Ed è posto davanti Ed è posto davanti ai nostri occhi Questo discorso Il giorno Dice manu Vuol dire manu Vuol dire che cosa è questo Anche questo è una profezia Dell'umiltà Tu non conosci È bisogno di una comunità Irragibile probabilmente la tua ragione Irragionevole Irragionevole E si combatte con la tua carne Con la esigenza della tua carne Con il segno che tu vorresti vedere Perché Dio è buono E amore Quindi mi dovrebbe dare certe cose E non mi può dare certe altre Se tu non fai questa esperienza Se tu non hai occhi Per riconoscere Allora rimani Nella posizione Dei giudei che hanno recitato Gesù Cristo Non puoi andare a Cristo Cioè non puoi andare verso questa rugiada Di misericordia Questa rugiada di amore Non puoi vivere ogni istante Della tua vita Ogni evento Ogni relazione Come l'alba della risurrezione La rugiada Era Cristo E Cristo risorto Non lo puoi riconoscere Hai bisogno che qualcuno ti apra gli occhi A poco a poco Che ti conduca nella fede Hai bisogno tuo Io Tonello Prete Missionario Quello che ti pare Ti sto parlando a te Ho bisogno ogni giorno Di essere condotto In una comunità concreta Ho bisogno di un cammino di fede serio Un'iniziazione alla fede Perché ci possono dire Le parole più stupende Le parole più belle Le parole più consolanti Ma poi diventa tutto Molto difficile Molto fiabile Molto fragile Perché non ci appartiene Perché questo cibo Viene dal cielo ogni giorno E noi abbiamo bisogno Ogni giorno Di scoprire Di vedere svelata La vita vera La vita eterna Nella storia che noi viviamo Ma se non abbiamo gli occhi Per riconoscere La rivelazione Hai bisogno di qualcuno Che veramente ogni giorno Pezzi il pane Della parola per te Che ti conosca Hai bisogno di momenti Importanti e forti Nel tuo cammino di fede Dove essere aiutato Dalla chiesa E hai bisogno Di una comunità Appoggiati all'opera Di Dio Delle persone Perché Cristo si manifesta Si rivela Si svela questo pane Che non perisce Questa vita eterna Anche nelle persone concrete Che sono accanto a te Nei fratelli Non c'è fede senza chiesa Perché io credo La chiesa Una santa Cattolica apostolica Perché è la realtà Che io sto vivendo Per cui ogni evento Ogni persona Anche le situazioni più difficili Diventano fonte di vita eterna Una malattia È una grazia Perché Cristo Non è venuto A sconfiggere la malattia Con un miracolo Lo fa alcune volte Per aiutarci a credere Per aiutarci a abbandonarci a Lui Ma poi comunque Dovremmo riammararci E morire Comunque Vedremo cadere i nostri Venti Da un lavoro Ma poi dopo un giorno Lo perderemo Perché andremo in pensione Perché un giorno Andremo in una cassa da morto Il miracolo Può aiutare in un momento Ma non è questo Il miracolo più grande Il miracolo viene Perché Cristo si incarna E redire la malattia Ne fa un evento di grazia Ne fa uno strumento di salvezza Allora chi è malato Entra nella malattia In un cancro Con dolori Con l'acchemia Ed entra con Gesù Cristo Si nutre di questa malattia Nutrandosi di Cristo incarnato Con uno strato di rugiata Come la mamma Lì Allora quella malattia Di ogni giorno Quei dolori di ogni giorno Ci operano a dire Che cos'è E la risposta È Cristo È Cristo che si dà in me Se tu ti nutri Di Cristo Nella storia Nei fatti Nelle persone Nelle situazioni più difficili Sperimentare la vita che non muore Perché non ti corrompi Perché quel momento Dolorosissimo Che l'acchemia Con il vomito Con quello che sia Offerto con Cristo Per tuo nipote Per tuo fratello Per quella persona Ha un potere infinito di grazie E basta andare le persone Ma quando dice Dacci sempre questo pane Si dice Chi viene a me Non ha più fame Ma questo chi viene a me Vuol dire chi viene Al mio corpo Al mia carne Chi viene alla chiesa Chi viene alla comunità Chi viene ai sacramenti Chi viene alla parola Chi viene al magistero Andare ai fatti Andare alle persone Andare all'altro Andare al fratello Perché nella chiesa è Cristo Perché Cristo è nella carne Dei fratelli Lo dice Papa Francesco Miglia volte È bellissimo Nella loro debolezza Come tu sei carne di Cristo Per quell'altro fratello Per quel presbitero Perché non è Mosè Non è un uomo Non è un profeta Non è un prete Non è nessuno Che vi dà vita Non è tua moglie Non è tuo marito Per quanto stupendi siano Chi vi dà il pane dal cielo È il figlio di Dio E come la manna Dice nel libro della sapienza Acquistava il sapore Il gusto Che in quel momento Ogni ebreo voleva assaporare Così Gesù Cristo Dà sapore A tua moglie A tuo marito A tuo figlio Dà il sapore Che tu desideri Sì Sì Il tuo fratello A tua moglie Acida Con un sapore Al presente Acidissimo Il tuo marito Proprio Un pezzo di acido Un tontolone Senza sale Senza zucchero Senza niente Eh La manda per te Perché Cristo Si dona a te In lui Avvicinati a lui Donati a lui E vedrai che Quello sapore acido Quello sapore aspro Quello siente Ha un gusto stupendo Quello che tu desideri In quel momento Che cosa desideri La gioia La solicità Il sapore della gioia Il sapore dell'incorruttibilità Il sapore del cielo Della vita eterna Bene Quello tu non puoi acquistare Accettata Accolta Amata Abbracciata Ha il sapore di Cristo Il sapore della vita eterna Un sapore stupendo Che riempie la tua giornata Che dà senso alla sua vita E il mistero che noi ce l'abbiamo Nell'eucaristia E che si compie Ogni giorno Nella nostra vita L'altare dell'eucaristia Dove noi ci metriamo Nell'infinità della chiesa È un alimento Che ci dà forza Che ci faccia Per andare E vivere nella storia L'eucaristia Che Dio ci presenta Ogni giorno Come una manna Sull'altare Del nostro lavoro Del nostro studio Della malattia Della precarietà Di quello che sia La vita cristiana La vita eucaristica La vita di intimità profonda Con il nostro Signore Gesù Cristo Mangiare di Lui Per lasciarci mangiare Dai fratelli Mangiare di Lui Nei fratelli Che trasforma te In specie eucaristiche Che trasforma la tua vita In un sacramento di salvezza Capace di dare la vita A questa generazione Coraggio Amen e grazie Don Antonello E buongiorno a tutti Con il TV Della pagina Amici di Gesù Oggi Non aggiungo niente Perché È tutto chiaro È tutto Limpido Vi aggo soltanto Una santa giornata Un santo martedì Oggi è il 7 Maggio 2019 Santa giornata a tutti Da Emilio Grazie 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 Grazie